Oggi daremo un'occhiata a Steve.ai. Questo è uno strumento video dell'azienda Animaker e l'idea è che ti permetterà di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare video istantaneamente. Ma prima di cominciare ti invito ad iscriverti al mio canale, nel quale ogni settimana caricherò nuovi contenuti su una varietà di argomenti diversi. Ora andiamo avanti e iniziamo con Steve. Eccoci qui sulla mia dashboard. Ora proverò questa opzione al centro che dice Blog per video in diretta. Questa opzione mi permetterà di prendere il collegamento di qualsiasi blog e in seguito ad una breve analisi. Genererà un video in pochi secondi. Proviamoci adesso. Non leggo molti blog ma questo è uno che leggo. Ho trovato un post sul blog in cui scrivevo, per il quale mi piacerebbe creare il video. Quindi copierò semplicemente l'URL e tornerò su Steve per incollare il collegamento. Seleziono Procedi e dopo averlo esaminato e analizzato puoi vedere quali estratti Steve è stato in grado di recuperare e utilizzare per lo script di questo video. Ora selezionerò Procedi. Come vedi ha subito creato uno script per me. In fondo ho due diverse scelte di video. Potrei scegliere un video live che incorpora videoclip, oppure potrei scegliere un video animato. Inizierò prima con il video dal vivo. Ci sono anche altre opzioni a destra ma ora le lascerò così come sono. Successivamente mi verrà chiesto di scegliere uno dei sei stili diversi. E ora tra pochi istanti Steve andrà avanti e lo elaborerà come un video. Questo è ciò che è stato in grado di generare. Prendiamoci un secondo e riproduciamolo per qualche istante. Una delle cose che noterai è la filigrana sul video ma una volta esportato scomparirà, quindi avremo un risultato eccezionale. Il video, come avete visto, è stato creato molto rapidamente. Ci sono così tante opzioni diverse che devi personalizzare ulteriormente, proprio qui a destra. L'altra cosa che puoi fare, anche se non ti piacciono alcune delle immagini che accompagnano il testo sullo schermo, è la possibilità di modificarlo selezionando le tue foto o i tuoi video. Ma se tutto sembra a posto, andiamo avanti e clicchiamo sul Pubblica. Vedrai in alto che dice che il video esportato non avrà quelle filigrane che vedi sullo schermo. Quindi ora andiamo avanti e selezionamo Download. E dopo l'elaborazione, questo video sarà scaricato e pronto per essere condiviso. Dopo un paio di minuti sono andato nelle mie esportazioni e noterai che il post del blog che ho trasferito in un video è proprio qui. Ora, terminata l'elaborazione del video, creerà un sito web che genererà un collegamento da poter condividere e ti consentirà inoltre di scaricare un file video effettivo di questo video, proprio qui, mentre lo stiamo guardando, quindi niente male direi. Se stai cercando un modo rapido per creare video, potresti prendere in considerazione l'utilizzo di Steve. Il sito web è steve.ai, puoi iscriverti ed iniziare gratuitamente. Ovviamente ci sono dei prezzi, che puoi vedere proprio qui. Spero che sia un qualcosa di interessante ed utile per te. Se hai domande su Steve, scrivimi nei commenti qui sotto. E non dimenticare di iscriverti al canale e di lasciare un like. Grazie e buona giornata! Grazie a tutti!